La casertana in serie utile da 5 partite vuole centrare la seconda vittoria consecutiva davanti al pubblico del Pinto contro una Catania che lo scorso anno si impose per 4 a 0 che mette nel mirino la seconda vittoria di fila in stagione parte meglio la squadra di Mimo Toscano con il grande ex Montalto che avvia la ripartenza chiusa poi dal sinistro di Guglielmotti con il sinistro che però si perde oltre la traversa buon avvio anche da parte della casertana, buon avvio da parte di Axel Bacayoko che qui converge, calcia però non trovando la porta poi al minuto 18 dal rilancio di Zanellati sorpresa la linea difensiva della Catania Mancini scappa via e in diagonale trova il suo primo gol tra i professionisti classe 2004 Italo Belga, il direttore sportivo Trevor Trevisan l'ha pescato dalla Ravenna qui è vano al tentativo di recupero di Di Gennaro pallone che bacia la faccia interna del palo, festeggiano i tifosi della casertana ma la reazione prepotente del Catania si materializza nella deviazione di Carpani con il grande salvataggio di Zanellati poi sul traversone di Anastasio libera la difesa rosso-blu Manuel Iori può essere assolutamente soddisfatto dell'approccio alla partita da parte della sua squadra che però al minuto 27 capitola, cross di Anastasio da sinistra arriva dalla parte opposta a Guglielmotti, primo gol con la maglia del Catania per l'ex giocatore del Lecco che va poi ad abbracciare il suo allenatore Anastasio determinante con il cross, scalato a sinistra dopo l'infortunio di Lunetta e l'ingresso di Gerardi dalla panchina diventa subito prezioso i pochi tifosi del Catania ammessi per questione di ordine pubblico allo stadio possono tirare un sospiro di sollievo in inizio della ripresa Carretta prova a crearsi lo spazio per calciare dopo il lavoro di Baccaio Co azione infinita con Falaschia che va in mezzo e sulla sponda di Mancini Damian ad impegnare Adamonis che si salva uno dei pochi squelli di una casertana che perde brillantezza col passare dei minuti prova allora ad affidarsi al cambio di passo di Baccaio Co minuto 68, lascia sul posto Luperini ma al destro non rientra mai il Catania che dall'inizio del secondo tempo ha puntato su inglese al posto del grande ex Montalto cresce col passare dei minuti e passa in vantaggio al minuto 79, secondo assist della partita per Anastasio e Jimenez appena entrato dalla panchina firma il suo primo gol con la maglia del club siciliano non segnava dalla doppietta contro Renate con la maglia dell'Atalanta Under 23 del 21 febbraio scorso e mette ulteriormente il timbro sulla partita nel secondo dei quattro di recupero quando viene messo in movimento sulla destra cross con l'esterno del mancino e inglese trova il suo secondo gol in stagione chiudendo la partita con 120 secondi d'anticipo per la seconda stagione di fila il Catania espugna il pinto di Caserta sale in quarta posizione e anche la seconda vittoria lontano dal proprio campo a distanza esattamente di un mese perde invece la casertana tra i fischi dei suoi tifosi si 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 Grazie.